Non è Hakimi, non è Dumfries, non è neanche Valentin Lazzaro. Attenzione perché tayon, 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 tayon Trevor Buchanan è un calciatore che gioca un calcio totalmente diverso. Se l'Inter e Ausilio lo hanno preso hanno fatto un bel colpo. Secondo me in tutto questo pacchetto di Buchanan, calciatore appunto del 99 mi pare, che gioca poi nella nazionale canadese, l'avete visto ai mondiali, c'è solo una piccola postilla che sa un pochino di Milan, che è un po' pagliaccio. Ogni tanto qualche esultanza, qualche modo di stare in campo, un pochino più diciamo. Ecco, poteva forse vestire la maglia dei cugini, attenzione per gli atteggiamenti, perché poi loro sono una squadra più così fatta di gente, no? Ma anche la Juve con questo qua di Vlaovic. Ecco, Reinders che dice che faranno la stella prima di noi, gente così. Però al netto, come dicono i pagliacci e mi faccio serio di questa intro cariatteriale, ecco, Buchanan è un calciatore totalmente diverso da tutti quelli che vi ho nominato prima. Poi tra poco parliamo anche di Gialo, Gialo, come cazzo si pronuncia, e di Piotr Zielinski, dalle nebbie polacche alle nebbie de Milan, alla faccia di ADL. Poi parliamo anche dell'attaccante, perché io avevo news e avrò delle news clamorose, delle fonti, delle fonti, delle fonti, delle fonti, tra credo uno, massimo due giorni. Quindi vi tengo caldi, sapete che finché le notizie sono le loro. Io l'ultima roba che ho detto e quindi ringrazio carissimo amico Luca, che saluto, poi ci sentiamo presto, a volte mi scrive tardi e io non riesco a rispondere. A volte ci incontriamo, ma io non passo sempre in centro, però insomma Luca è sempre un ragazzo che mi dice cose, ecco, poi ringrazio Francesco, insomma, vi devo anche dire una cosa, anzi ve la dico adesso, ve la metto dentro qua, dentro al calciomercato. Allora, Octri non vuole l'Inter. Qual è la differenza? Eh, l'hanno detto tutti. No, no, calma. Un conto e se lo dicono le fonti le fonti, un conto e se lo dicono tutti. Questa è una notizia che sembra una cavolata, ma Octri, poi vi daremo molte notizie in più di calcio e fece, di gente che ha cambiato oggettivamente io da lettore. Pago, posso giudicare un giornale? Posso giudicare un giornale che cambia 60 volte sulla vinta dell'Inter? Io vi dico con ufficialità che Octri non vuole l'Inter. Ergo si troverà una soluzione. Mi ne frega un cazzo di avere in pancia l'Inter come fondo. Quindi nulla, vi tengo aggiornati. Torniamo a Buchanan. Buchanan è un calciatore che dribbla partendo da fermo, dribbla in corsa, è un'ala destra pura, ma se la metti a sinistra, avendo il dribbling, quando uno ha il dribbling, ha la capacità anche di cambiare fascia. Perché un conto è avere la visione di gioco, un conto è avere il piede, un conto è avere la progressione o la gamba e un conto è che se la palla ti arriva tra i piedi, che sia una palla che scotta, che sia una palla da ragionare, da gestire, se tu sai fare il dribbling, sei un giro avanti a tutti. Te ne accorgi anche quando vai a giocare a calcio, a me ormai accade di rado, però insomma ho giocato molto come voi, voi giocate ancora, meati voi. Però ti accorgi sempre che quello che poi, al di là di quello che ha il tiro, di quello che ha la sassata, quello che poi ha il dribbling secco, ha qualcosa in più quando si gioca a calcio. A meno che non giochi a undici, sei un metronomo, non giochi in difesa e sei, come diceva Nereo Rocco, un killer, oppure non giochi in attacco e sei un assoluto bomber. In realtà Bucaran, non avendo queste caratteristiche, ha quella più importante. C'è un dribbling secco, da destra verso sinistra di solito, no, dal centro verso destra, comunque con la palla davanti, però fa anche il dribbling inverso. Calciatore che sa anche calciare, perché quando sai di blare sai calciare, non è un grandissimo goleador, perché non è che ha fatto tantissimi gol, ne ha fatti gli stessi leggevo in nazionale facendo 35 partite col Canada di quelli che ha fatto nel Bruges, insomma. Ne ha fatti parecchi negli Stati Uniti, ma ne ha fatti un po' meno nel Bruges. Ha giocato, insomma, anche lui parecchie partite e pochi gol, però è fulminio, però intelligente e poi nell'essere pagliaccio è coraggioso. Il coraggio è tutto nella vita, dicevano in Full Metal Jack. E' un giocatore che non è un dribblomane, però è uno che a differenza di Dumfries fa il dribbling, ma lo fa secco. A differenza di Achimi, idem, a differenza di Lazzaro, idem. Quindi un calciatore che non avete e non abbiamo mai visto, se verrà come sembra la corte dell'Inter. E se viene, viene perché? Viene perché uno, quadrado, oggettivamente si è fatto male e col Panita abbiamo preso un po' un pacco, perché ora che riprende, rientra, l'annata sarà finita. Due, Darmiana non può fare tutta la fascia, perché c'è il discorso dietro di andare a coprire Pavard, perché anche lui ha avuto qualche problema, speriamo definitivo, ma Darmiana è imprescindibile, quindi è più tarato sulla difesa che sull'esterno, anche se poi è un uomo che ogni tanto ti giri e trovi Darmiana a fare l'attaccante. Questa è una cosa che gli veniva poi dai primissimi anni all'Inter. Ora, Darmiana anche come il vino, come il Barolo migliora col tempo. Sotto cosa c'è anche, visto che Bissek sta giocando stabilmente a destra, lui che era venuto in teoria per giocare più a sinistra ed essere il vice bastoni, sta giocando più a destra. Quello che mi fa pensare è che il signor Delzen Danfritz, che dalle fonti, le loro o da quelli anche ufficiali, posso dirlo, sembra che la stia sparando parocchio grosso. Lui ama l'Inter, è affezionato all'Inter, è esploso nell'Inter, ha reso meglio in Olanda anche da quando è all'Inter, però vorrebbe un bel po' di fresca, un bel po' di freschella, come dicono Nevio e Filippo Champagne. Poveri cazzo! E l'Inter sta ragionando, perché ha sotto mano Bucaran, che scade non quest'anno, cioè 2024, ma 2025 mi pare, però vuole andare via. Il Bruges non lo tiene, non insiste, è lì dal 2022, quindi non da tantissimo, però capisce che vuole andare a fare un'altra esperienza e a differenza, non so, di quando il Milan ha preso Kinderino, dove il Bruges, sono sempre in manandà, quest'anno sono raffreddato, sono campione italiano di raffreddore, scusatemi. Stavo dicendo che la differenza è che quando il Bruges ha venduto Kinderino, il Milan aveva bisogno di questo giocatore in quella zona, e al Bruges hanno fatto i figli. Qua invece è un discorso dove il giocatore spinge per venire, il prezzo era doppio, anche di più, sui 17, 15, 16, 18, ora, col fatto della scadenza e senza andare a scadenza, l'Inter è disposta a dare 7, 8, 9 milioni. I soldi non ho visto quanti siano al giocatore, non so se è uscita la notizia, però la scelta poi, come sembra, passa attraverso Zhang, e a me sembra un po' folle, nel senso che l'Inter dica, tra virgolette, l'operazione dell'osidio l'ha fatta, ora palla Zhang, che deve dare l'ok per questa operazione. Allora, io vi dico subito qual è l'intrigo. Palla Zhang vuol dire, secondo me, poi posso sbagliare, non so, mica l'indovino, palla Zhang vuol dire che Dumfries, a questo punto, se arriva Buchanan, ragazzi, non è che giocano in 16, il quadrato va via, Bissek fa il vice di Pavardo, fa l'ambidestro, poi c'è Darmian, in prospettiva c'è Bissek e non ci sarà Darmian che diventa grande, anche se è ancora buavissimo, è ancora giovane, diciamo, anche se non giovanissimo. A quel punto, ovvio che a sinistra, dove siamo blindati, con Carlos Augusto che diventa goleador, con Di Marco che è diventato un esterno a livello internazionale, è tanto da interessare anche le pagine di quotidiani spagnoli, Real Madrid che ha mandato una specie di ambasciata di interesse per Di Marco, quindi di là siamo abbastanza operativi e coperti per anni con Carlos Augusto e Di Marco, abbiamo soluzioni, gol, assist, calci d'angolo, colpi di testa, vedete che Carlos Augusto stupirà. A sinistra, scusate, a destra, se arriva Buchanan, va via Dumfries. E l'operazione famosa, legata all'ok di Zhang, semplicemente arriva questo, no, non si può comprare, sì che è calmo però, va via Dumfries a 35, che non lo rinnoviamo per i discorsi che ho fatto prima che potrebbero essere reali e quindi a quel punto dice, ah quindi Buchanan a 7-8 che magari è anche più forte, magari, perché poi non è che il dribbling è tutto, però Buchanan potrebbe essere più forte di Dumfries, più adatto anche al calcio italiano dove sarebbe essere rapido gli spazi e magari dai via Dumfries non incassi 35, così hai fatto più 27, giocatore altrettanto forte, magari gli dai anche meno soldi e non dai soldi a Dumfries che ne voleva di più. E questo è quello che per me potrebbe accadere. Mi dispiacerebbe per Dumfries, Dumfries è una certezza, in quest'Inter sta giocando bene, Buchanan ha qualcosa che io amo, io, poi non sono io, io amo gli giocatori che dribblingono, soprattutto se sei in fascia, dopodiché Dumfries ha qualità che Buchanan non ha, perché la forza di Dumfries, il fatto di andare a difendere eccetera, per me Buchanan deve essere imparato, deve essere, anzi deve essere applicato per diventare difensore e forte fisicamente come Dumfries non lo sarà mai, quindi diversi, a oggi mi tengo Dumfries, però è chiaro che in prospettiva mi prendo Buchanan, quindi scelta difficile, vedremo cosa deciderà Zhang, questa è insomma un po' la presentazione di Trevor che mi avete chiesto e per quanto ho potuto vi ho raccontato quello che insomma avevo già cercato e guardato anche negli archivi, nelle immagini, poi me lo ricordo in mondiali, riguardo a questo giocatore che è alto, non pesa tantissimo, è un po' un gasato però gasa anche, quindi operazione dell'Inter come sempre, vedi, prenditi Dumfries a 13, lo rivendi a 35, questo nella mia testa, poi magari li tengono tutti e due e danno via a quadrado e Armian fa il difensore, non lo so, e bisse che va a sinistra, avere Dumfries, però non credo Dumfries più Buchanan, non lo so, vedremo, comunque come sempre grande Inter nel mercato, fattuale.